e siamo giunti al clou di questo caldo pomeriggio riservate a buoni cavalli di quattro anni sul miglio pochi ma buoni sono in sette The King, Tudor Daini, Terrorcaf con Vincenzo D'Alessandro Junior, Titanic Daini, Tuono Cross, Toscanini e Truman Lewis, due e trentuno Tuono Cross, corsa però molto aperto, Tuono è molto cresciuto con cautela Titanic Daini gli altri bene a rete, ottimo galoppa il sei Toscanini si lotta per il comando dal centro Terrorcaf cerca di emergere su Tuono Cross, il sei a tabellone di dentro The King che cerca di rientrare si ritrae leggermente Tuono tredici e quattro il lancio, i due a borbottare ma mi sa che The King vuol correre al comando poi al completamente della stessa piegata insiste Terrorcaf e sta passando quattrocento se ne vanno in ventotto e otto interviene il Tuono e Tuono si presenta sul nuovo leader Giorginio punta in avanti classico freeway, oggi è partito pur alla grande e così Tuono al comando seicento in quarantadue e nove da uno undici e mezzo e The King si mette in seconda posizione e anticipa Truman, rinviene anche Titanic Daini al comando Tuono Cross, si va mezzo miglio in cinquantanove tre e sedici e quattro di frazione, il Lewis va a diretto contatto con il Cross lo impegno lo costringe nuovamente ad allungare si va di fronte il chilometro nell'ordine dell'uno tredici e quattro quattordici e uno di frazione torna in vantaggio Tuono allarga sempre Truman nella scia Titanic Daini di dentro The King Griff torna la carica Truman fa quattordici e tre, fanno uno ventisette e tre, tre quarti di miglio riparte il Tuono, vuol far rumore anche oggi questo Tuono completamento della curva finale scappa via Giorginio, prende vantaggio esplua Caff, Tuono Cross viene via Titanic, di dentro Terror e mentre Tuono saluta gli amici saluta la commitiva per il secondo c'è lotta serrata e sul palo è The King Griff numero uno a portare a casa la seconda moneta attenzione uno cinquantasei e mezzo uno dodici e otto cresce, cresce, come cresce nonostante la sola giornata soleggiata una giornata più di primavera ma estiva il Tuono fa rumore con una pennellata da parte di Giorginio totalizzatore due cinquantuno e ora Emilio per la premiazione e l'intervista per il terzo è Terror Caff che rientra a Titanic Daini Tuono tuono e che rumore Giorginio con questo cross un esimio esplua Caff linea allo studio Grazie mille Grazie mille